e avevamo posto la domanda qualche giorno fa mercati o fed chi mollerà per primo nel senso che la fed ha detto che terrà i tassi invariati come minimo invariati fino alla fine dell'anno e potrebbe valutare di alzarli sulla base dei dati nelle prossime riunioni anche se non ha programmato nessun aumento come ha fatto invece nei mesi passati cioè non c'è un aumento già predefinito per il mese di giugno ha detto vedremo i dati il mercato prezza addirittura dei tagli già a partire da luglio quindi chi mollerà per primo era la domanda di due giorni fa e abbiamo visto ieri che stanno aumentando le probabilità che fino a qualche giorno fa erano praticamente zero le probabilità di un rialzo dei tassi di 25 basis point a giugno la settimana scorsa erano zero 0,4 ieri erano abbiamo visto intorno al 20 25 oggi 36 per cento quindi stanno aumentando man mano le probabilità che la fed possa fare qualche scherzetto che dopo aver fatto credere che si fermava e invece potrebbe ancora aumentare questo ha messo le ali al dollaro e anche qui il dollaro un paio di giorni fa eccolo qua il video di era il video di fine settimana il video di fine settimana scorsa corsa al dollaro perché avevamo già visto queste due candele di espansione apriamo un attimo per far vedere meglio dal punto di vista tecnico queste due candele di espansione erano state delle entrate molto pesanti da parte dei bull sul dollaro che avevano provocato diversi segnali tecnici positivi fra cui quali incrocio del dmi che aveva rotto una trend line eccetera eccetera adesso non ripetiamo cose già dette qui si verificano in questo momento dei pattern tecnici molto interessanti perché al minimo arrotondato che si era già configurato a gennaio 2023 segue il minimo arrotondato ancora più importante degli ultimi mesi delle ultime settimane su quest'area di 101 e 5 che abbiamo detto più volte che per tutta una serie di motivi dal punto di vista tecnico era molto importante e sarebbe stato molto sorprendente se fosse stata violata diciamo senza un ulteriore tentativo almeno di andare a vedere le resistenze ora siamo arrivati oggi con l'espansione di oggi più 0 7 quindi un ulteriore espansione dopo due giorni di consolidamento e la giornata leggermente positiva di ieri ulteriore espansione verso il primo target volatility stop line a 103 e 7 però secondo me qui la strada è aperta verso il test della media 200 più in alto in area 105 106 certo non è che non è detto che ci arrivi di filato avremo delle fasi di consolidamento oggi è stata una giornata sicuramente di espansione alla quale potrebbero seguire un altro paio di giornate di pullback comunque il quadro tecnico è abbastanza chiaro siamo in questo ampio trading range per il dollaro quindi con la parte bassa molto importante in area 101 e 5 e verso l'alto il target come abbiamo detto in area 106 per contro l'euro dollaro ecco che si ripiega di nuovo e vediamo se questa volta ce la fa perché l'euro non è mai riuscito negli ultimi mesi ad andare a toccare la media 200 ne avevamo parlato più volte questo è stato un failure importante failure nel senso che con questa candela di espansione nera sembrava appunto pronto per rompere i supporti a 1 e 0 5 non ce l'ha fatta e secondo me andiamo di nuovo a ritestare quell'area fermo restando che anche qui nel breve potremmo avere dei rimbalzi perché siamo sulla volatilità stop line in area 1 0 7 la forza del dollaro è comunque importante perché anche indicativa di tensione in genere che c'è sui sui mercati e poi tra l'altro la forza del dollaro mette pressione al ribasso alle commodities ai preziosi infatti loro rompe oggi 1980 il supporto di 1980 e si lancia verso il prossimo supporto importante 1920 in quest'area qui di questo rettangolo giallo dove passa la volatilità stop line questo è un target di breve è lo stesso per quello che riguarda come vedete sono segni rossi adesso non abbiamo il tempo non le vedremo tutte poi man mano nei prossimi giorni il petrolio ieri è andato di nuovo a ritestare 73 ma siamo sempre qui nel balletto fra 73 65 e anche il rame meno 1 e 38 prosegue questa è una fase di consolidamento intermedia ma anche qua il target lo avevamo visto in uno dei video precedenti è area 3 e 5 il target di questo movimento impulsivo che è ancora in corso il gas europeo e qui dobbiamo passare al grafico lineare e anche logaritmico perché comunque la discesa è stata impressionante quindi dai quattro top a torre disegnati nel corso del 2022 fine 2021 e poi 2022 il break al ribasso qui di area 97 via via è andato a vedere tutti i supporti di area 40 vi ricorderete quando ha rotto 40 vi disse il prossimo target 25 sembra incredibile perché eravamo a 300 però ci stiamo arrivando oggi 29 quindi abbiamo scoperto abbiamo siamo scesi sotto 30 abbiamo siamo abbiamo visto il 2 vediamo se arriveremo a questo target grafico importante di 25 comunque la discesa è veramente a piombo siamo su dei valori di eccesso quindi potrebbe esserci un rimbalzo così come l'ha fatto il gas naturale americano che ha fatto dei rimbalzi comunque siamo sempre su livelli bassissimi anche il gas americano è arrivato a 2 5 veniva da 10 10 dollari e quindi siamo in una fase di eccesso potremmo avere dei rimbalzi però diciamo la strada al punto di vista tecnico è abbastanza tracciata l'azionario allora l'azionario chiaramente adesso un po condizionato dalle scadenze tecniche di questi giorni dalla scadenza di una trilionata di opzioni ritorniamo il grafico a candele per vedere l'S&P 500 come ha preso questo rialzo del dollaro perché nel recente passato la forza del dollaro non è diciamo sempre piaciuta ai mercati azionari americani perché la forza del dollaro diciamo sfavorisce tutte le aziende che hanno fatturati all'estero e quindi vedono calare solo per l'effetto cambio il fatturato il S&P 500 in questo momento segna più 0 5 manca un po alla chiusura manca ancora una mezz'oretta qui diciamo la giornata è abbastanza definita siamo sempre all'interno della del broadening non c'è nessuna novità particolare sta tentando di rompere sto livello grafico di 4150 dove c'è il gap il famoso gap di agosto non ci sono volumi particolari quindi diciamo non ci sono neanche grosse novità qui sull'S&P pesato sull'equi pesato e qui dobbiamo continuare a fare questa distinzione perché la differenza è marcata l'equi pesato non solo fa più 0 3 quindi anche oggi lascia sul campo un altro 0 2 di differenziale rispetto all'altro ma in una situazione tecnica completamente diversa questo le resistenze non le ha neanche viste ok quindi questo è il rebus che dovrà essere risolto nelle prossime settimane stessa cosa per il nasdaq il nasdaq pesato esce più le 4 qui ve lo vediamo qua sotto la forza di google più le due amazon più le 5 microsoft più più uno questi sono tutti i titoli che spostano l'indice solo quei tre quindi più le 4 esce dal livello di 328 328 338 questa è una resistenza importante c'era la discesa rapida generalmente queste discese rapide questa risale ad aprile 2022 poi vengono ricoperte altrettanto rapidamente e infatti anche questa volta è successo così è sceso in due giorni e qua è salito in due giorni si sta riportando su 328 la prossima resistenza intermedia poi l'altra molto forte a 357 per gli amanti dell'indice chi segue l'indice per giusto per dare i livelli stiamo parlando di adesso siamo su 13 6 14 mila dove siamo in fase di eccesso quindi io qua mi attendo una pausa fatti salvi gli spike dei titoli legati all'intelligenza artificiale che in questo momento è il nuovo light motive di entusiasmo per cui sta sparando verso l'alto google microsoft tutto quello che è correlato all'intelligenza artificiale e quindi fatti salvi quegli spike io qua mi attenderei una pausa anche per il nasdaq pesato perché comunque siamo in fase tecnica di eccesso tra 13 6 e 14 mila e poi quella resistenza superiore che abbiamo visto più su sull'etf e qua dove c'è questo gap di aprile 2022 quindi stiamo parlando di 14 e 800 eccolo tracciamolo così abbiamo delle corrispondenze analoghe per tutti e due quindi allora fissate bene dove siamo con il nasdaq pesato vedete siamo su questa fascia di resistenza poi ci spostiamo sul qq e che è appunto la versione qui pesata e non l'abbiamo neanche sfiorato però nel livello di 73 dove passano i massimi dei mesi scorsi quindi continuano queste divergenze queste situazioni anomale che devono essere risolte perché non c'è ampia ma alla fine che ci interessa sta storia e no ci interessa perché il bull market un vero bull market è caratterizzato da una partecipazione corale dei titoli cioè non ce ne sono non c'è non c'è un bull market con quattro titoli che vanno per conto loro e il resto del listino che galleggia dow jones invariato questo è un altro indice sì sono soltanto 30 titoli però sono i principali 30 titoli industriali qui ci sono anche apple e microsoft qua dentro però il peso qui viene calcolato in modo diverso è un po' originale il peso si calcola sul valore delle azioni sul valore in dollari dell'azione quindi diciamo si non è non è la capitalizzazione ecco quindi vediamo che qui c'è già un effetto diverso a parte il fatto che comunque la composizione del dow jones non ci sono solo i titoli tecnologici c'è un po di tutto però diciamo è un indice che può essere preso come come riferimento anche questo non c'è traccia di bull market qua siamo flat dal novembre 2022 siamo qua a 333 che corrisponde 33.300 nel video di qualche giorno fa avevamo detto che c'è un possibile target qui in area 32 5 aspettiamo la conferma della rottura di sto 33 300 che ha fatto finta di rompere diverse volte ieri ci ha fatto capire di voler schizzare verso l'alto oggi si è piantato di nuovo perché comunque siamo anche sotto scadenze tecniche quindi qui abbiamo questa marea questo rumore di fondo di questo trilione passa perché la massa di opzioni in scadenza è notevole e quindi ci sono turbolenze diciamo dal mercoledì al venerdì di queste giornate infatti anche oggi vediamo che tutto sommato questo oggi è invariato no russell più 0 2 anche per il russell non ci sono grosse novità perché non ha rotto livelli significativi sta ancora in in questa fase di chiamiamola consolidamento dopo lo spike ribassista del del fine aprile 25 26 aprile potrebbe continuare verso le resistenze qui a 180 questo è l'etf ivm il fiera in grid index sempre allegro sempre 65 questo non è un fattore a favore dei bull perché comunque queste fasi di avidità comportano degli eccessi degli eccessi anche di aspettative no perché ora anche poi ci sono le varie narrative il deficit c'è l'accordo non c'è l'accordo la fed fa la pausa non fa la pausa il mercato ha avuto e come lo vediamo al fine e green index si aspetta si aspettava questi rally meno c'era la parte bull che se li aspettava quindi ora torno all'esse l'S&P 500 questo è quello pesato è l'S&P 500 pesato che comunque è ancora qua fra 4150 e 4250 sono le resistenze che sono qui da agosto 2022 quindi sai mai che questa roba dovesse per qualche motivo girarsi tutte queste aspettative verrebbero frustrate siamo appena saliti a 66 quindi aumenta l'entusiasmo man mano che passa il tempo quindi attenzione perché io qui non vedo corrispondenza non nemmeno in indici come l'S&P 500 pesato la corrispondenza tra l'entusiasmo da una parte è un indice che si sale sale ma alla fine è sempre la è perché il 17 aprile quindi un mese esatto fa eravamo a 416 oggi siamo 417 ok quindi diciamo prudenza ecco prudenza anche perché sul fondo sullo sfondo c'è questo possibile rialzo a sorpresa anche a giugno delle commodities abbiamo detto io direi velocemente diamo un'occhiata alle richieste è una richiesta riguarda i ren titoli le utilities italiane oggi diverse hanno corretto anche a 2 ha avuto una correzione molto pesante i ren sta andando a ingaggiare i supporti a 1 88 si è fatta tutta l'ultima salita in divergenza di dmi i prezzi salivano e il dmi scendeva perdita di momentum ammollato la direzionalità e questo quasi sempre poi porta quasi sempre perché qui certezze non ne abbiamo però quasi sempre significa con alta probabilità si va al test dei supporti se dovessimo rompere diciamo il target naturale e quest'area compresa tra la volatilità stop line e la media 200 questo è un pullback interessante da seguire perché potrebbe magari offrire delle occasioni in futuro per quello che riguarda tesla un amico chiedeva di dare un'occhiata a tesla non ci sono grosse novità di tesla avevamo fatto tempo fa un discorso abbastanza ampio con questo mega test e spalle ribassista rottura qua con volumi pullback sulla media 200 siamo sotto la volatilità stop line e questo è un ritracciamento con volumi in calo diciamo che qui la situazione del livello da tenere d'occhio è 190 sopra 190 possiamo parlare di qualche cambiamento in questa situazione perché potrebbe svilupparsi qui la testa possibile testa una figura di reversal con un target più alto ma finché non superiamo 190 per me il trend resta a scendere con possibile ritest dei livelli molto più bassi che abbiamo visto nel mese di dicembre inizi gennaio concludiamo con stm e senti battle e micro elettronics l'avevamo vista anche questa tempo fa qui quando era più o meno qui su potrei andare a rivedere a riprendere il video ma è irrilevante mi ricordo però che il discorso era simile a quello che abbiamo fatto prima con iran no allora qua c'era prezzi più o meno in salita il dmi che si sgonfiava test dei supporti qui a 43 supporti rotti era vi dissi occhio a 43 perché se rompe andiamo a vedere la media 200 ci siamo andati adesso la media 200 ha fatto da supporto e stiamo andando a rivedere questo 43 43 lo spartiacque quindi se riusciamo a ritornare sopra 43 l'impostazione generale rimane comunque positiva quindi però è chiaro che un failure qui no ecco più che allora l'impostazione positiva non è che sopra 43 diventa bullish siamo bullish perché comunque ha chiuso questo vecchio gap del 40 però la media 200 orientata bene e questo è un bel minimo che se andiamo a vedere sulle scale intraday potrebbe anche essere un test spalle rialzista quindi l'impostazione positiva però qui attenzione perché se dovesse tornare indietro tutto questo quadro tecnico cambia quindi andiamo a vedere ora cosa succede a 43 impostazione positiva per st mm ma queste rotture così violente con un po di volumi in aumento perché anche la media sta venendo su sono sospette in questa situazione generale ok quindi comunque anche le posizioni long sempre prudenza con l'esposizione e con la gestione del rischio va bene abbiamo quasi finito il tempo mi raccomando il video di domani fine settimana faremo il punto di situazione sulle candele weekly grazie per i commenti iscrivetevi ai canali è molto importante e segnalate situazioni interessanti così poi le guardiamo assieme intanto buona serata a tutti e appuntamento a domani